Allora, punto numero 2, comunicazione e deliberazione di giunta in 1.613, tipo 12, tipo 12, tipo di rilevamento del fondo di riserva. È una semplice comunicazione della delibera di giunta per il rilevamento del fondo di riserva per una somma complessiva di 2.768 con gli schemi allegati al Consiglio tenuto sapore di questa delibera di giunta effettuata il 22 dicembre del 2012, per un importo di 2.768. Per quanto è previsto dalla normativa vigente bisogna dare comunicazione al Consiglio Tribunale.